Ieri, a San Paolo del Brasile, è stata proclamata Beata Madre Assunta Marchetti, nata in Italia, cofondatrice della Sore Missionarie di San Carlo Borromeo, Scalabriniane. Era una sora esemplare nel servizio agli orfani degli emigranti italiani. Lei vedeva Gesù presente nei poveri, negli orfani, negli ammalati, nei migranti. Rendiamo grazie al Signore per questa donna, modello di instancabile missionarietà e di coraggiosa dedizione nel servizio della carità.